Sardegna, Sicilia, Toscana e Puglia sono le mete più gettonate dell'estate 2017, complice la paura del terrorismo, ma anche l'alto livello di ricettività e boom di prenotazioni in Italia, come non accadeva da anni. I piacentini hanno scelto di girare la penisola e di tornare a trascorrere le proprie vacanze all'interno dei confini nazionali. Le coste italiane hanno attratto quest'anno però anche tantissimi turisti stranieri. La conferma arriva da Fiorella Fermi dell'Agenzia Viaggio dello Zodico di Piacenza. Quest'anno in particolar modo proprio come dicevi, un po' il timore, l'incertezza ha fermato le famiglie italiane qui sulle nostre coste e poi aggiungiamoci anche l'ottima cucina, servizi alberghiere che sono notevolmente migliorati e maresplendidi perché tra la Sardegna, la Puglia, la Sicilia la voglia anche di riscoprire o comunque di mixare sia un po' di relax, bel mare e anche qualcosa da vedere che non fa mai male, un po' di cultura. Sicuramente la Sardegna offre tanto, sempre molto richiesta, abbiamo veramente anticipato tanto le prenotazioni perché l'Italia è piaciuta agli italiani ma è piaciuta tanto anche agli stranieri per cui dovevamo un po' litigare per trovare poi i posti. All'estero i piacentini hanno optato soprattutto per la Grecia, nessuna disdetta al momento per il terremoto e Spagna, quest'ultima però, ha subito un leggero calo a causa dell'aumento dei prezzi. Intanto i piacentini si stanno mettendo avanti già per le vacanze invernali prenotando con largo anticipo per avere la possibilità di usufruire di tariffe e servizi migliori. Finalmente anche noi a livello proprio di agenzie e tour operator ci stiamo, voglio dire, strutturati. La cosa veramente piacevole è che in generale chi ha la possibilità di programmare le ferie perché ha già il piano ferie davanti, pensare in anticipo dà la possibilità di scegliere destinazione e condizione migliore. Quindi in questo momento ci stiamo prenotando sia chi è arrivato all'ultimo minuto e cerca una soluzione di vacanza proprio per partire fa pochi giorni, sia chi invece sta pensando la vacanza di Natale, Capodanno oppure anche la vacanza di febbraio. Questo sì. I consigli per non rovinarsi la vacanza? Avere tutte le informazioni e controllare assolutamente i documenti perché insomma i controlli ultimamente proprio per la sicurezza sono sempre sempre molto fiscali e rigidi. Quindi controllare di avere i documenti in regola e poi voglio dire di aver scelto la combinazione delle strutture sicure per avere poi la vacanza che uno cercava e che voleva fare.